...a riportarsi in avanti San Marco ancora, sterza e poi cerca il tiro, poi la tira indietro, c'è il tiro a giro da parte di Roberto Crisafulli, stavolta Santarelli prova a metterla fuori ma non ci riesce, è il raddoppio della Lazio. ...che prova subito il servizio centrale, arriva però Blandino a spazzare, addirittura a servire Giordano che arriva in zona tiro, Giordano, Scarfagna non va a bloccarlo e allora va ad accorciare le distanze il numero 4 del Cotton, 1-2. ...pazzare fuori il pallone, serve Zamperini, poi qui rischia Santarelli, c'è la conclusione, allora di San Marco di pochissimo alta sopra la traversa.